No al pre e post scuola, sì invece alla mensa. Arriveranno poi anche due bonus per aiutare le famiglie. Queste sono le principali novità emerse dall'incontro tra l'assessore alla scuola Lucia Tanti e i dirigenti dei sei plessi scolastici comunali Eretini. La riunione infatti ha toccato tutti i punti in materia di riapertura in sicurezza, tracciando le linee guida che verranno applicate a partire dal prossimo 14 settembre con il suono della prima campanella. Verrà così istituito un bonus per la mensa. Il costo per il servizio sarà infatti invariato per le famiglie. Il surplus dato dall'applicazione delle norme Covid di circa 0,71 centesimi per ognuno dei 3.000 passi al giorno sarà coperto dall'amministrazione comunale. La mensa sarà garantita a tutti e per tutte le scuole, ovviamente nel rispetto dei protocolli del Comitato Tecnico Scientifico, che si basa su poche ma inderogabili regole. Separatezza degli spazi tra sezioni, sporzionamento in zona sicura e separata, monoporzione con bottiglia d'acqua per ogni bambino e pane incartato, piatti biodegradabili e tovaglietta di carta. Dove consumare il pasto sarà deciso dai singoli dirigenti in base agli spazi e all'organizzazione interna. Via libera poi anche ad un bonus conciliazione per le famiglie. Non potendo attivare i servizi pre e post scuola a causa delle normative anticontagio, l'amministrazione comunale metterà a disposizione un bonus per tutte quelle famiglie che non sono nelle condizioni di potersi organizzare con gli orari. Per quanto riguarda infine i trasporti, i scuolabus della città di Arezzo saranno operativi seguendo tutte le prescrizioni di sicurezza. Per facilitare i percorsi e semplificare le cose alle famiglie, la temperatura sarà misurata a bordo.